il brambi neanche a tradirsi per svista si riesce a cavare un ragno dal buco quando hai a che fare solo con buchi sovrapposti ad altri buchi una piacevole conferma in tanti sensi una sinecura che ti finisce in bocca da sola per noi anche se italiano un ragno un cervello ce l'ha certo ripeto non c'è più la soddisfazione di una volta e io mi annoio mi annoio mi annoio e mangio 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 e mi ingolfo di reality show mica mi accontento di la prova del cuoco da c'è posta per te all'isola dei famosi a uomini e donne a il grande fratello a chi l'ha visto passo i miei giorni facendo zapping 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 ma niente mi sazierà mai come quel torsolo di cavolo e quella mezza patata calda col filo d'olio e quel cardellino che volava nel vetro e ci sbatteva contro violentemente specchiandosi mia nonna gli avrà dato il primo nome inusuale che le è venuto in mente io in seguito di cardellini ne ho visti non assomigliavano a quel lucellino colorato ma senza niente di rosso a parte il sangue vivo sul petto un essere isolato la coda lunghissima e sottile un cosino forestiero fuggito senza volerlo da qualche gabbietta di marinaio che non ritornava più se invece della finestra di una casa gli avessi spalancato la porta di una gabbia forse sarebbe entrato a salvarsi come me e non ha mai visto in sé un altro la solitudine finita aveva solo il terrore di tutta quella libertà nelle ali di tutto quel cielo sconosciuto di tutte quelle altre specie uguali eppure così diverse spaventose intorno e ha approfittato del vetro per ma forse me lo sono solo sognato era una volgare cavalletta e l'avrò spiaccicata contro il vetro io e quella parola da niente di lei passione passione per cosa lei la vecchia puttana quindi è stato reso anonimo irriconoscibile è stato rimosso se uno è innominabile mi sembra giusto che sia anche invisibile già cenere da vivo come me e amen gli occhi della badante dalle ore 4,14 secondi alle ore 10,28 minuti del 26 luglio del 2009 a pieve di lombardia mi manca non mia madre quella l'avevo già data per persa cinque anni prima che morisse ma le telefonate con lei quando era via più invecchiava più erano spiritose vedrai a marzo ti aggrappi alle ciliegie di maggio a giugno al grappolino di uva bianca di agosto a settembre alle castanielesse di novembre e a gennaio c'è sempre una scusa per non voler morire vedrai tu bello mi manca quella sudorazione improvvisa che dalla commozione mi prendeva dalla cima dei capelli e scendeva lungo la colonna vertebrale mentre ero venuto il momento di mettere giù il ricevitore e lei stava ancora cercando una parola per trattenermi quella voce mi darà mai più un simile meraviglioso dolore da lontani ognuno per conto suo davamo il meglio di noi insieme almeno lei con me io invece con tutti anche lei come me stava giornate intere da sola ma a differenza di me che di preferenza non metto piede fuori dalla porta con l'uncinetto in mano sulla soglia di casa pronta a scambiare un saluto fulminiamente trasformato in recamatissimi convenevoli col primo che passava senza però smettere di contare i suoi punti dritti e rovesci anche quando cominciavano a sfuggirle chiunque avrebbe detto di averla vista sollevare la testa ma non era vero lei era più socievole di me al di là dell'apparenza di gratitudine per ogni parola scambiata al volo anche se di proposito non andava mai a cercare nessuno temeva non tanto di disturbare quanto di dare licenza di essere a sua volta disturbata nelle sue improrogabili faccende non avendo più niente da fare entro un dato tempo le sue giornate erano febbrilmente occupate dalla sua modesta inventiva nel non restare mai con le mani in mano che finivano su un uncinetto beh sì siamo simili anche se io resto tramortito occhi chiusi almeno due volte più di lei e come ieri svegliandomi di soprassalto ho impiegato un bel po a mettermi insieme per capire dalla luce naturale del bagno in che parte del giorno potevo mai essere capitato non vale dire che mia madre aveva quattro figli e pertanto era sola come è spesso il caso delle donne dalle molte maternità e anche in questo caso la cosa suonerebbe falsa perché lei era circondata innanzitutto dal mio sapiente amore e poi da quello spiccio e altrettanto vitale di un sacco e una sporta di altra gente la sua solitudine era di ben altra specie era proprio uno stare da sola dentro e ben stabilizzata sul proprio esclusivo perno standoci bene e molto meglio di me che di perni ne ho parecchi e troppi in prestito da un punto di vista evolutivo io rappresento un passo indietro rispetto a lei lei sapeva guardare molto più lontano e da lontano di me e sapeva bene a differenza di me che nessuno era mai partito e che nessuno sarebbe mai arrivato o non arrivato così vicino da farle sollevare la testa e rischiare di scalare un punto dalla fatalità del suo centro ma allineiamo il passo se posso permettetemi di affermare che sono pur sempre io insomma a riconoscerle un'enormità del genere e averle reso questo omaggio più implicito che esplicito per non farla restare male per decenni e decenni e anche post mortem da venerdì a oggi che è domenica non ho chiamato nessuno io e non ha squillato il cellulare nemmeno una volta me ne accorgo adesso che sono le 4 e 22 del mattino perché la memoria sul quadrante segna in effetti due telefonate fatte dallo stesso numero nel tardo pomeriggio di ieri squilli che non ho sentito perché per l'appunto ero su a pensare a come riaddormentarmi data la cefalea dal troppo sonno e da quattro masturbazioni consecutive in 24 ore con quell'ausilio del retino per atropi attempati di schizzi free gay porn anche se per me non è semplice perché gli atti sessuali altrui non mi eccitano niente è meno sessuale del sesso visivo né dal vivo né dal semivivo senza star qui a specificare quali sono gli atti sessuali vivi e quei quali semivivi dato che quelli in natura natura sono ben più recitati e impappinati di quelli registrati sulla natura digitale ci è voluta tutta la mia pazienza di non guardone per trovare eccitante qualche faccia e qualche situazione perché come i ruoli cominciano a essere assegnati e a zerarsi l'atmosfera cioè dopo pochi metri di pellicola frana ogni mio già di per sé in erpicanti interesse e devo ricominciare tutto da capo il logorio dell'angorino a comando spero proprio che tutto questo subliminare liquore di testa mi butti fuori combattimento per almeno una settimana il pensiero di vedere un briciolo di interesse ormonale verso l'esterno farà capolino anche solo tra me e me mi allarma e poi mi sconforta mi viene da ridacchiare se penso che tutte e quattro le volte che ho goduto di un'erezione di marmo e di un orgasmo da macaco e di una eiaculazione da geyser appena fuori Rechiavici e di una intensità di battiti del cuore inteso quale sorgente del sentimento come neanche a 40 anni quindi non è assolutamente vero che non sarei più in grado di fare altrettanto con un uomo in carne e ossa se la sua mente non fosse stupida come le sue ritorsioni in agguato però alla fine della solfa di fatto un essere umano non rimpastato del mio potere di concentrazione mi fa schifo al cazzo ecco e basterebbe così poco volontà maturità determinazione libertà o almeno un funzionale libero arbitrio del momento poi il ritmo lo si trova invece ho sempre a che fare con insipienza infantilismo costrizione senso di colpa e mentre uno ruina se fa bene o se fa male io sono già andata a pascolare altrove e aspetto aspettavo che odi che ogni ogni passi il bolo ogni vada di traverso una tortura la quale dovevo pur fare bella cera non ho scelta massicce dosi di bromura a parte oggi trovo il sesso con gli altri così superfluo e noiosamente pericoloso ce ne attaccano sempre un pezzettino che non c'entra niente batteri a parte intendo dire quanto a mitomanie proiezioni senza caponecoda aspettativa abnormi e indifferenze sospette che ti buttano addosso nemmeno tu fossi un canale di scolo annesso a quel loro water che chiamano la mia intimità e poi sembra proprio che solo uomini che i soli uomini e le sole donne che scopano in modo decente siano i professionisti prezzolati per la bisogna una volta tacitata con del denaro la loro ansia di normalità potendo far finta al meglio della loro complicatissima arte si scatenano anormalmente sul serio come un innamorato non potrebbe mai l'alibi vecchio di Zecca li disinibisce completamente e è molto più il piacere che si prendono che quello che ti lasciano non che io abbia una grande esperienza in questo senso rifugio dei sensi dei creduloni dei creduloni e dei faciloni a parte quella poca che mi serviva per farmene un'idea e per un esborso globale che non credo superi 500 euro in tutta una vita elaborativa di zoccola vaga di vivisezioni peripatetiche su di sé fossero pure mille gli euro generoso non lo sono mai stato pagavo il loro tempo ben poco d'altro mentre per fraterna amicizia darling vedi se trovi qualcosa di più adatto di quella fraterna antropologica ho gettato al vento una fortuna che forse facevo meglio a spendere in uomini al pezzo se solo mi fossi arreso alla molle libidine di massa perché non saranno pochi benefici che pensano che il sesso no l'ipocrita ma l'affetto se lo è pagato alla grande spudoratamente e non sapeva neanche distinguere accecato com'era dal terrore dell'irreversibilità di un destino di respinto dalla nascita tra puttane da sveltina e platoniche di mestiere a parte alcuni episodi di violenza subita da gente con la quale non ero mai stato contrattato alcunché e che faceva sesso gratuitamente per poi puntarti un coltello alla gola con convinzione adeguata alla prestazione tipo un pizzaiolo egiziano che nel cesso di un cinemino di Milano prima mi fa un pompino con l'ingoglio malgrado continui a sospirare vengo 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 senza che senza per questo convincerlo a staccarsi e poi tutto lievitato di collera dice estraendo un serramanico a scimitarra che io l'ho costretto a fare un atto contro natura proibito dalla religione eccetera eccetera e io dei bei ricordi legati agli uomini che si prostituiscono sarà stata la mia allegra gentilezza e il mio rispettoso distacco uniti all'invito a prendersi la marchetta senza sé possibile fare niente da sbottonati a parte magari chiacchierare per un po' del più e del meno senza alcuna morbosità perché per loro è come per andare in ufficio e tirare su lo sportello cosa che di per sé suscitava la mia meraviglia e ammirazione perché infine tanta era la tenerezza che mi ispiravano proprio come l'impiegato che tutti i santi giorni fa dalle nove a mezzogiorno e dall'una alle cinque che mi dimenticavo perché si trovavano in quella situazione lì con me che neppure li toccava e che volentieri gli avrebbe dato una carezza un buffetto se non fosse sembrata proprio la cosa più vicida da fare nessuno di loro poteva essere desiderabile per me procurarmi un'eccitazione sessuale da un corpo attorno a una mente disadattata e infelice mi sembrava inoltre vergognoso inopportuno e non all'altezza della dignità e coerenza tra il mio dire e il mio fare propugnate da sempre anche contro i miei istinti dei quali ho sempre diffidato non sembrandomi altro che il precipitato di ulteriori idee ricevute io non mi adeguavo certo al giovanile morto di fame in cerca di sangue fresco in verità era più fresco ero più fresco io e lo sono restato tiè e loro così socialmente e emotivamente denutriti non avevano certo un boccone in più da porgere a me non glielo avrei mai permesso non me lo sarei mai permesso fingessero pure fingendo come quanto gli pareva capivo fino a che non mi rendevo conto che il boccone ero io e tutto io compreso certo il denaro ma non solo quello non cedevo e se quel paio di volte ho ceduto cercando di dissimulare il mio non dissimulabile imbarazzo l'ho fatto per non ferire il loro residuo amor proprio di maschi improvvisamente sbalestrati da una variante non prevista frustrati disoccupati e in crisi a ben pensarci gli unici dal cui mi sono sentito desiderato davvero sono stati alcuni cosiddetti ragazzi di vita quelli senza vita propria come me e che non sapevano niente del mio stato sociale anche se certo non occorreva molto per immaginarselo facendoti conti in tasca già dalle scarpe o dall'igiene perché poi saranno anche di vita questi qua ma non imparano proprio niente se continuano malgrado le brutte avventure che hanno con i ricchi sanguisuga ad assimilare un poco di concreto umanità e disinvolto disinteresse al borghese che sta bene di portafoglio allorché potevo benissimo essere un pensionato con la minima e un po' di cervello di scorta perché un miracolato di tanto in tanto deve pur venire a galla dal sordido orrido dei cannibali andati a male mi viene in mente un certo di dagli occhi di un celestino lucido per me impressionante che mi faceva rabbrividire il quale da bellissimo e smilzo e dal sorriso perlaceo ho visto con qualche dente in meno e imbolsire e ingrassare come un orcino ciociaro nel giro di un paio d'anni dopo averci cincischiato alcuni palpamenti di rito il quarto di una volta la prima e ultima non ci non si capacitava del perché continuassi a dargli 20 o 30 euro senza far niente gli dicevo che si risparmiasse pure le energie per qualcun altro non pretendevo nemmeno che stesse lì a farmi compagnia gli ridavo e smammavo per non disturbargli le tresche dietro i doppi tendaggi di un ultimo teatro romano rimasto aperto altrimenti gli dicevo se quando aveva finito voleva venire a mangiare con me lì al ristorante all'angolo mi divertiva vederlo ordinare perché lui che magari succhiava cinque cazzi di prima mattina e leccava quattro culi tra pausa pranzo e crepuscolo ingogliando tarzanelli a gogo senza batter ciglio e si chiappettava due ministeriali tra pennichelle e timbratura d'uscita era schifiltoso da farti saltare i nervi dalla ridarella repressa si raccomandava che non ci fosse un filo di grasso nella bistecca o si informava se la verdura era stata lavata col bicarbonato e evitava ogni pietanza cotta nel burro come potevo liberargli che i suoi occhi erano uguali anche per la malinconia ormai affettata dall'abitudine e tanto più tragica a quelli della badante di mia madre anche lei di quel paese là e anche di come la badante di mia madre mandava quasi tutti i soldi a casa e ogni mattina si ritrovava in bolletta ma contento come il giorno prima anche se credo che anche loro abbiano finito per chiedersi a cosa potevano ormai attaccarsi per continuare una vita così sempre come se niente fosse uno pensa che si aggrappino al focolare domestico o costruito o rimessi in piedi grazie al martirio in terra ingrate e crudeli e sì certo alla nostalgia dei loro cari con i quali ricongiungersi per sempre un giorno ma non è così si aggrappano alla vanità dei loro sforzi perché qualche volta in un decennio sono pure ritornati dove sono partiti e avranno visto che quei cari con sei lunguine gli hanno mangiato fuori tutte le loro rimesse fino all'ultimo centesimo che i loro figli abbandonati o ai vecchi o a se stessi fanno vita di strada e di galera e che col bel caminetto di marmo nel tinello e la parabolica sul tetto e l'ultimo modello di iPod non riempi né la pancia né l'istruzione né un mestiere e che tutto tutto è stato inutile ma questa disfatta se la tengono per sé se mai osano confidarsela e l'unica fonte di calore rimastagli è perseguire questa inutilità senza tregua né riscatto fino alle estreme conseguenze perfezionarne il gelo e assiderati morirci dentro che facciano poi ritorno a casa o no di mi ispirava un po' di affetto in più perché era proprio sprovveduto e si buttava via di giorno in giorno stava in una pensione per non più di una settimana poi doveva sloggiare cercarsi un altro alloggio di fortuna perché magari aveva fatto alla madre un vaglia troppo grosso una volta un suo compagno di stanza e disventura gli aveva rubato tutti i risparmi di un mese non mi era difficile riconoscere nella sua vita brada e snervata la mia stessa gioventù quindi non ero non ero generoso che per riflesso egoistico di non avendo agganci con altri prelati o parlamentari manifesti come un certo modello brasiliano che si era tolto subito dal cinemino di pensionati poveracci e stava tirando scemo un cardinale non trafficava con la droga e questa bizzarria me lo rendeva ancora più simpatico e aveva un modo sornione di sorridermi quando vedeva che mi turbava perché era come se chiedessi ogni volta il permesso di prendersi dall'agonia più vergognosa una simile libertà con uno spudoratamente in forma come me beh l'ultima volta che l'ho intravisto mi sorprese da dietro ero seduto al tavolino fuori in un posto della galleria esedra dove vendono gli arancini di riso e non feci nemmeno in tempo a girarmi per vedere da chi mi era alitato quel fiato sull'orecchio dove sono sordo dalla nascita che lui mi bisbigliò sibilando un poco per via del canino perso per strada domani rientro al mio paese volevo dirti che tu sei l'unica persona buona che ho incontrato in otto anni di Italia mi schioccò un bacetto sul lobo e sparì verso stazione termini a farsi gli ultimi straordinari